Uno sfogo esistenziale, un mezzo per materializzare l'immaginario fatto di cartoni manga e film horror. Questo è per Daniele Salvetti la fotografia. Un mondo tra il sognato e il fantastico raccontato a Pistoia alla libreria Cino con la mostra Oniriche Visioni. Alle pareti della libreria diversi scatti del fotografo Via Regino, immagini in bianco e nero che contrastano con le copertine colorate dei bei sellers negli scaffali, dove le persone ritratte sole in uno spazio vuoto o strette in primissimi piani sembrano quasi immerse in un sogno. Io ho sempre immaginato un mondo mio parallelo dove personaggi viaggiano in una dimensione onirica dove fa sogno oppure anche un altro mondo parallelo. Praticamente se vedi anche le mie foto hanno tutti questo aspetto un pochino trasognato mezzo addormentato oppure che sono in una situazione REM o addirittura anche vai nell'incubo. L'incubo magari anche in situazioni dove le persone sono un po' più spaventate. Non si capisce bene cosa succede perché credo che tutti noi abbiamo dei momenti dove magari a seconda del proprio stato d'animo abbiamo anche dei sogni un po' più inquieti e quindi vanno un po' a un'interpretazione che lo spettatore riesce a dare mentre lo vede. Io lascio un po' libero arbitrio a chi viene a vedere le mie foto. Non voglio dargli neanche i titoli perché sennò porta troppo in una direzione. Invece lasciando aperto il titolo dà anche più spazio a ogni spettatore a cercare qualcosa che dia un'impressione. Grazie.